E' durato quattro giorni l'idillio della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, reduce dalla vittoria infrasettimanale con Trieste. Nella domenica di Bologna la Fortitudo riporta la VL sulla terra imponendole un severo 87-66 con i pesaresi in partita fino al quarto quarto dove poi crollano con un finale negativo, a salvarsi solo le prestazioni di Moretti e di Capitan Delfino. Dal basket al calcio la VL conquista la sua terza vittoria stagionale nonché la seconda consecutiva che le consente di fare capolino in zona playoff confermando di essere davvero in un bel momento. A Lucca arriva una vittoria in rimonta allo svantaggio maturato su calcio d'angolo di Bellic dopo sei minuti. La VL risale alla china pareggiando con manetta nel corso del primo tempo e trova il premio massimo con l'incornata vincente di Gucci su calcio d'angolo a dieci minuti dal novantesimo. Ci sono sempre due partite, quella tecnico-tattica e quella emotiva, i ragazzi sono stati strepitosi, hanno giocato una partita dove va in svantaggio contro una squadra forte in un ambiente difficile e quindi hanno saputo interpretare e riconoscere bene i momenti in cui si poteva approfittare, i momenti in cui bisognava tenere la palla e i momenti in cui bisognava difendersi. Sono stati strepitosi, ci sono aiutati, hanno corso, hanno lottato e soprattutto ci hanno creduto. Dopodiché erano sette partite che aspettavamo un corso un po' inattiva e un corso angolo e sono arrivati tutti e due insieme. Quindi è vero così. Buon risultato anche per il Fano che nel campionato di Serie D pareggia 1-1 a Chieti. Vantaggio Granata di Tortori a fine primo tempo, pareggio Abruzzese a inizio ripresa e Alma che tiene, nonostante più di mezz'ora, giocata in dieci per l'espulsione di Delli Carri. Ma è stata anche una domenica contrassegnata dallo start di due campionati. Quello della Megabox Vallefoglia che al debutto nella Serie A1 di pallavolo femminile si è trovata di fronte un Everest da scalare. Le campionesse d'Italia ed Europa di Conegliano hanno vinto in 3-7, ma la Megabox ha saputo mostrarsi all'altezza dell'impegno proibitivo. Prima di campionato vincente invece per l'Ital Service che nella massima serie di calcio a 5 ha battuto 3-0 Napoli nell'arena di Salso Maggiore grazie alle reti di Canal, Borruto e Fortini. Dulcis in fundo, il weekend ha regalato anche una giovane pesarese incoronata campionessa del mondo. La disciplina è quella del beach tennis dove Giulia Renzi dopo aver vinto il campionato europeo Under-18 a Sofia e il titolo mondiale in coppia Under-18 a Terracina svoltisi a settembre si è ora laureate anche campionessa mondiale a squadre Under-18 nella Kermess tenutasi a Rio de Janeiro.